Sono indagati per omicidio colposo i genitori del piccolo Luigi Marino, il bimbo di tre anni morto nel Salernitano, nella frazione Cadossano a Montesano sulla Marcellana, schiacciato da una cisterna d'acqua, mentre si trovava in un terreno con la madre e il padre. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia che potrà chiarire le cause del decesso del bimbo. La salma attualmente si trova nell'obitorio dell'ospedale Luigi Curto di Polla, a disposizione dell'autorità giudiziaria sul caso e al lavoro la procura di Lago Negro, sequestrata all'area dove si è consumata la tragedia sul posto. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Sala Consilina, una sciagura che si è consumata in pochi minuti. Ieri sera intorno alle 8, Luigi si trovava con mamma Antonella e papà Michelangelo nel campo vicino casa. Pare che il padre stesse riempendo due cisterne, poste su un carrello agricolo da 1000 litri ciascuna. Il mezzo si sarebbe sbilanciato e ribaltato, facendo cadere una delle due cisterne proprio sul corpicino del bimbo. Da qui la folle corsa all'ospedale di Polla. Il cuore del piccolo però ha smesso di battere pochi minuti dopo il ricovere in rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate, un dramma che ha gettato nello sconforto i genitori del piccolo. Sotto shock la madre che ha avvertito un malore. Commosso il commento del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Il dolore acuto di una tragedia così profonda lascia senza fiato. La comunità tutta piange il suo piccolo angioletto e si stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia. Montesano è a lutto fin d'ora perché quando va via un bambino va via sempre la parte migliore di una comunità.